E' di nuovo tempo di vaccini. Mentre non ha ricevuto il numero di richieste attese, il vaccino per la nuova variante del Covid è stata alta invece la richiesta alle farmacie napoletane per il farmaco contro l'influenza stagionale nell'ambito della speciale campagna di vaccinazione. Da questa mattina infatti tutti i cittadini over 60 potranno ricevere gratuitamente in 300 farmacie di Napoli e provincia il vaccino antinfluenzale e la domanda è stata alta come testimonia il farmacista Nicola Stabile. Sono arrivati oggi in quasi tutte le farmacie del Napoletano. L'influenza, devo essere sincero, la richiesta di essere vaccinati da parte dei nostri clienti, dei nostri pazienti è decisamente elevata. Personalmente ho già dovuto fare il riordino rispetto allo stock iniziale che ci è arrivato stamattina perché, devo essere sincero, la richiesta è stata veramente importante e di questo ne siamo soddisfatti perché la prevenzione vaccinale è un passo estremamente importante per cercare di evitare tutte quelle che possono essere le patologie, specialmente nei soggetti più fragili. La campagna vaccinale per l'influenza va di pari passo con quella per la somministrazione di quarte e quinte dosi di vaccinazione Covid che ha preso il via a inizio del mese di ottobre dopo che a fine estate in campagna erano ripresi a salire i contagi. Una variante leggera per le fasce giovani ma rischiosa per gli anziani. Già stiamo vaccinando altre settimane. La richiesta è obiettivamente inferiore rispetto all'anno passato. Ci sta ma stiamo già vaccinando e anche quella è un'esigenza da parte delle fasce più deboli che ha visto nelle farmacie un percorso privilegiato per poter effettuare le proprie vaccinazioni.